A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e non l'uomo degno et e mento va. Ecco io, ecco io, io, franto a Maria, io, frà Francesco e Maria, dopo aver compiuto dai piccoli frati e piccoli suori di Gesù e Maria il periodo di formazione interna dell'Uviziatus, prometto ufficialmente davanti a Dio, all'albeato Vergine Maria, agli angeli e agli santi, e davanti a noi fratelli, che ci fai la maggior gloria di Dio e la salvezza del maggior numero di anima possibile, di valere e vivere pienamente il Vangelo, o io, fatti, e della verità, e della tua mano, frappola di Dio, e del Cristo e di Gesù e di Maria. Per il primo anno dei tre pochi temporali, facci un po' di iberi incastigati, overtai e benizi. E io, secondo la parola di Dio e la tradizione della Chiesa d'Apore da Comancio, ti prometto la vita eterna e beata della gloriosa inorganità nella santa desferenza. Sì, laudato per te l'erba, sì, laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siano coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Sì, laudato, mio Signore, per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare, e beati saranno quelli della tua volontà, che sorella morte non gli farà male.